Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla statale 477 dell'Alpe di Casaglia, tratto chiuso per una valanga, avvenuta tra Palazzuolo, Sul Segno e il Passo della Colla. Neve in A1 tra Sasso Marconi e il Bibio della variante di Valico e tra la variante di Valico e Badia. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, tra Modena e il Valico della Betone e sulla statale 63 del Valico del Cerreto, tra Fivizzano e Vezzano sul Crostolo. Sulla Fipilì a causa di un incidente è chiusa la rampa di accesso dello svincolo di Empoli in entrata in direzione Livorno, segnalato poi personale su strada per lavori tra Lavoria e Gello in direzione Firenze. E sta piovendo tra Ginestra Fiorentina e Gello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!